Eh no, oggi non vi salvate, oggi non vi salvate perché dopo avete reagito, cioè il secondo tempo è quello che dovete fare, non l'atteggiamento del primo, il secondo tempo è l'atteggiamento giusto. E l'abbiamo buttata grazie a quell'atteggiamento, bravissima, mi dovete spiegare, non posso urlare, mi dovete spiegare perché, perché, ma se c'è, l'atteggiamento praticamente sta stagione non è mai stato un problema all'ultima partita decisiva, guarda c'è, non vi rendete conto? Ma, c'è proprio, ma che cos'è? Me lo vedo come una sorta di regalo al contrario che ci avete fatto a fine stagione, il regalo, la sorpresa finale negativa. Questa, questa veramente non mi è piaciuta, questa veramente non mi è piaciuta. No, 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 perché, perché ragazzi, cioè, i primi due gol, come ho già detto nel primo tempo, la difesa era completamente inesistente, cioè, o non eravate conciuto, cioè, quell'attimo di distrazione e avevano fatto due gol? No, la difesa ha funzionato male, la difesa ha funzionato male nel primo tempo, perché hanno avuto miliardi di occasioni, anche nel secondo tempo non l'hanno avute, ma molte di meno, e ha attaccato soprattutto anche la Roma. L'avete buttata grazie al primo tempo, non ci posso credere, l'avete buttata grazie al primo tempo. Ma ve lo siete meritato, ma ve lo siete meritato. Sono cinque anni che non andiamo in Champions, bravissimi, sono cinque anni. Cinque anni, questo sembrava proprio l'anno in cui ci potevamo fare, e non ce l'abbiamo fatta nemmeno stavolta. Complimenti. Allora, già sapevo che questa parte l'avremmo persa, perché comunque a Bergamo non si vince. Però, poi, te la potevi giocare, cioè è stata equilibrata la partita, te la potevi giocare al secondo tempo. E tu l'hai buttata e hai fatto fare due gol a quel cesso di De Ketelar. Ma puoi far fare doppietta a De Ketelar. Ma puoi. Cioè, il maggior colpevole della difesa, purtroppo, oggi, mi sento di dirlo, è stato un dica. Cioè, i primi due gol, mi sembra proprio responsabilità sua. Cioè, poi, Mangini, ma Mangini ha il primo gol. Ma che cazzo? Mangini, ma che ti è successo? Ti ha dato un po' nel cervello? Ma tu sei scemo? Non ha difeso? Ci sei dimenticato di fare il tuo mestiere che facevi da tutta la stagione bene? Come cazzo è possibile? Me la dovete spiegare questa? Me la dovete spiegare? Ma vi rendete conto di che stagione abbiamo buttato nel cesso? Cioè, tutti, dopo l'arrivo di Rossi, c'è, oh, la stagione adesso, magari ci eravamo esaltati tutti. Ci avete illuso? Questa è una stagione identica a quella del due anni scorsi. Europa lega avanti, poi la perdiamo. In campionato sesti? Con sempre 60-63 punti? Cioè, sono tre campionati identici. De Rossi ha fatto metà campionato, Murillo metà campionato. Alla fine non ha fatto meglio. Cioè, questa è la cosa. Alla fine De Rossi non ha fatto meglio. E qualche colpa ce l'ha anche lui, qualche colpa, ma qualche. Comunque, sta cosa che c'è a un sabato del campionato è vero, ma... Cioè, ragazzi, abbiamo fatto un campionato uguale a quello dell'anno scorso. Dopo tutto questo. Dopo Roma-Brighton siamo riusciti a fare... Cioè, dopo Milan-Roma siamo riusciti a fare lo stesso campionato. Io non ci credo. Cioè, ma neanche un pass... Anzi, siamo pure stati prima dell'eliminato in semifinale. Forse faremo un po' più di punti. Ma c'è... Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Sono veramente deluso da voi. Almeno nel primo tempo. Non avete proprio onorato niente. Nel primo tempo. Cioè, questa cosa io non la concepisco. Cioè, io questa cosa non l'accetto. Tu non puoi perdere una cazzo di partita per un atteggiamento al primo tempo. Cioè, vi fate veramente schifo. Cioè, se avete fatto questo... Se avete fatto questo... Si stoppa pure il video. Vabbè, basta ragazzi. C'è la stagione andata. E testa la prossima stagione. La Roma è questa. La Roma è questa. Abbiamo fatto meglio del Napoli. Abbiamo fatto meglio della Lazio. Forse. Forse. Porco. E... Basta. Abbiamo fatto meglio di loro. Contenti? Siamo arrivati sopra la Lazio. Mi sono illuso. Sono veramente, veramente deluso. Ho fatto pure rima. Basta, cioè. Non voglio manco di chi ha giocato bene qualcuno. Gli ha giocato bene. Lukaku mi è piaciuto. Kristen sei il migliore in campo. Non sto scherzando. Mi è sembrato il migliore in campo. Ma come cazzo... Cioè... Kristen sei... Io ti voglio bene, ma... È assurdo che tu sei il migliore in campo. No, io non ho parole. Non ho più parole. Non ho veramente parole. E anche quest'anno... Il Champions League... L'anno prossimo. Ciao. No, non voglio dire più nulla. Basta. No.